Milano è la città che rappresenta almeno il Made in Italy, l'eccellenza nella moda, nel design, nella tecnologia e per quello che riguarda il nostro settore, Exile Expo è l'evento che rappresenta l'industria italiana delle macchine per la lavorazione del legno, che sono fra le prime al mondo ed è una finestra importante nel mercato internazionale ma anche nazionale. Maggi ha sempre partecipato a questa manifestazione, quest'anno dopo quattro anni di assenza ha un motivo in più per esserci. Le novità che presenteremo alla fiera Exile Expo sono in linea con la nostra mission aziendale, semplificare la vita dei nostri clienti. Abbiamo sviluppato un programma software per la nostra foratrice Evolution a pannello passante che facilita la programmazione dell'operatore, essendo un software particolarmente semplice ed intuitivo. La stessa cosa l'abbiamo fatta per una monotesta, una foratrice semiautomatica, un settaggio elettronico con un touch per facilitare appunto questo tipo di operazione. ultimo e non ultimo è la nostra app per l'assistenza da remoto che grazie alla realtà aumentata e alla traduzione in simultanea in 80 lingue facilita il contatto con la nostra clientela per l'assistenza. Grazie.